Uno speciale dedicato ai teatri dell'anima. Sono qua con il dottor Mengheri e i teatri dell'anima. Che bella parola, che bel titolo per questo speciale che è anche una serie di seminari, ma adesso non vorrei parlare dei seminari, vorrei proprio parlare dell'esigenza in questo momento di partecipare insieme a un qualcosa che ci aiuti a vivere meglio. Sì, noi facciamo appunto questi teatri dell'anima, ovvero l'ingresso, il vedere, cosa accade nella nostra anima per entrare dentro, ma essere copartecipi e partecipi a ciò che avviene nel nostro mondo interno in maniera da poterlo aiutare rispetto a quella che è la tecnologia che ci sta in qualche maniera sovrastando e impegnando oltremodo, trascurando quella parte più importante che è la nostra psiche che si sta ribellando come attraverso sintomi, attraverso il tesoro esistenziale, ansia, eccetera. Il sintomo, immagino, più comune appunto è l'ansia, lo abbiamo toccato. Perché le persone oggi, tutti quanti, diciamolo, abbiamo quest'ansia che ogni tanto ci coglie, ci coglie questa sensazione della mancanza di tempo, di tempo per noi, quasi paura. Dunque l'ansia non è un elemento negativo, come può sembrare, ci disturba, ma è un elemento positivo perché ci avvisa che stiamo male e che quindi ci dobbiamo organizzare. Cioè l'hai già classificata come una sintomatologia? No, più che sintomatologia è un allarme che ci trasmette la psiche per avvisarci, guarda, organizzati perché qualcosa dentro di te non sta funzionando come dovrebbe. Quindi dobbiamo solo ringraziarla quando c'è. Certo ci disturba, ci fa male, quindi dobbiamo razionalizzare perché venga meno, dobbiamo curarci perché venga meno. Però intanto lei ci dà questa informazione, poi possiamo farne l'uso che si vuole. Certo, certo. Curarsi intendiamo attraverso farmaci o attraverso una psicoanalisi, attraverso un parlare o attraverso anche il rapportarsi con altre persone? Direi che tutto questo è possibile, chiaramente ci sarà il caso in cui c'è bisogno dello psicofarmaco, casi rari ma ci sono e come, e quindi dobbiamo mandare dal farmacologo, lo psichiatra nel contesto, però certamente anche una volta fosse necessario, non sempre è necessario, non certo con l'abuso con cui se ne fa oggi. fare una buona psicoterapia significa, a volte in contemporanea con lo psicofarmaco, poi abbandonare lo psicofarmaco e entrare nell'anima, discorrere, discutere, parlare, raccontarci noi all'anima e l'anima a noi i suoi disagi e le sue sofferenze. Praticamente l'anima si intende con noi stessi ovviamente, la nostra, quella che abbiamo dentro, la nostra persona, noi siamo un tutt'uno, cervello. Già, noi siamo insieme corpo e mente, non sappiamo dove è la mente, per noi occidentali la mente è nella testa, per gli orientali la mente è nella pancia, ma la mente siamo noi, il corpo siamo noi, noi non abbiamo un corpo, noi siamo il corpo, noi siamo la mente, quindi curare l'uno significa curare anche l'altro. Stare vicino a tutti e due. Senti, c'è una tua collega molto giovane che vorrei che tu mi presentassi, allora, vieni pure qua nel mezzo, allora, il suo nome è dottoressa? Lisa Ferrara. Lisa Ferrara, bene. Si è avvicinata a questa branca, con quale spirito? E rimanga, rimanga. Con il desiderio di conoscere sicuramente prima me stessa, ma anche poi di ampliare quella che è la conoscenza dell'uomo in generale, in particolare dell'aspetto importante dell'anima, quindi questo interesse, questo amore, diciamo, verso questo aspetto. Tu sei una ragazza giovane, perciò ti approccerai, diciamo, anche con più facilità verso le persone della tua età. Tu che pensi? Perché le persone che, appunto, sono giovani, oggi sono così malcontenti, questo senso di disagio, di mancanza di interessi? Penso che da una parte ci sia fortemente la necessità di guardarsi dentro, di ascoltarsi, manca un pochettino questo, il tempo, la capacità di fermarsi e ascoltare un po' quello che suona e risuona dentro di noi. Penso che serva un po' questo oggi. Perciò, questo è un bel messaggio che ci lancia la nostra dottoressa, fermarci un attimo e guardarci dentro. Questo credo che valga a tutte le età, a tutte le situazioni, anche alle persone che devono correre per il lavoro per tutti i giorni, ma non solo lavoro, perché purtroppo oggi c'è poco anche quello, ma cercare di affrontare le cose, forse, sempre, con uno sguardo rivolso verso noi stessi, verso noi dentro. Giusto, dottor Mengheri? Sì, certo, e questi seminari sono appunto improntati sulla ricerca di noi stessi. E per saperne di più basta andare sul sito www.mariomengheri.it e troveremo tutte le iniziative con la specifica. Cioè ogni seminario a cosa serve, cosa comporta, cosa contiene, chi lo fa, viene fatto nella sede AIRF, in via Carlo Meier, numero 5, solo su prenotazione. Si preferisce persone che seguono il ciclo completo, che sono otto seminari. E al di là di questi seminari, in che altra maniera ci si può approcciare verso voi? Anche, vabbè, mandandoci appunto un'email, lo studio privato, e sicuramente il modo migliore è partecipando a questi eventi, quindi vedendo chi opera veramente nel campo, e ovviamente facendo appunto una scelta, una scelta del professionista a cui rivolgersi. Un consiglio che possiamo dare, già uno l'abbiamo dato molto bello, alle persone che ci seguono da casa per riuscire ad affrontare questa vita che è sempre così, come potrei dire, perigliosa, perché tutti i giorni sembra che ci siano delle montagne da scalare anche se non esistono. Qual è il consiglio che puoi dare? Mi sembra che il più semplice, il più ovvio, il più limitante e limitato è quello di partecipare ai seminari. No, 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 attenzione, non per promozione, perché nelle scuole non viene insegnato niente di tutto questo. Qualche cosina nel socio pedagogico, pado di licei, nell'università se si fa psicologia, ma avere un qualcosa portata di mano, per questo l'ho improntato, ho messo su con tante altre persone che mi hanno aiutato, significa ascoltare finalmente cos'è l'anima, chi è l'anima, parlare con lei e avvicinarcisi e quindi placarsi quelle parti demoniche che peraltro ci servono per difenderci anche dal mondo, che contattandole non solo pacificano, ma ci danno anche la loro energia positiva. Tra l'altro può essere uno scambio costruttivo anche con le nostre parti peggiori, diciamo. Assolutamente, assolutamente. Le parti peggiori non vanno, come insegna anche il dottor Mengri, non vanno cancellate. Bisogna lavorarci, integrarle. Quindi è interessante anche questa parte, gli aspetti più bui di noi, quindi guardarli e stare con quelle parti. E diciamo anche un pochino sfruttarli, tra virgolette. Ah, anche. Perché no? Certo, certo, certo. I demoni sono noi, dobbiamo farci conti. Sono parti istintive, primordiali, che abbiamo ereditato come ereditiamo il nostro corpo, ereditiamo anche delle parti psichiche, buone e cattive. Più nutriamo le cattive, più saremo cattivi e staremo male. Più nutriamo le buone, più saremo migliori e staremo meglio. E con queste belle parole saluto il dottor Mengri e la dottoressa? Lisa Ferrara. Lisa Ferrara. Benissimo, e al prossimo speciale. Grazie. 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 Grazie.